Il meteo vi è offerto da Ben ritrovati da meteoincalabria.it è in atto un nuovo rinforzo dell'anticiclone sulla nostra regione una vasta struttura di alta pressione che si consolida sull'Europa centro-meridionale dovrebbe caratterizzare le sorti meteo sul Mediterraneo centrale per buona parte della settimana in corso passiamo alle previsioni in dettaglio oggi generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque salvo residui e addensamenti sui rilevi di serra ed aspromonte temperatura in diminuzione domani generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque temperatura in ulteriori rilevi e diminuzione nei valori minimi nelle aree interne di valle passiamo ai mari ai venti oggi venti moderati da nord-est sul tirreno centro-settentrionale con mare mosso deboli settentrionali sul settore meridionale con mare poco mosso Lo Ionio avrà venti moderati localmente forti sul settore crotonese dai quadranti settentrionali con mare molto mosso domani venti deboli di direzione variabile sul tirreno con mare poco mosso deboli o localmente moderati da nord sullo Ionio con mare tra poco mosso e mosso prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina facebook meteoincalabria per oggi è tutto grazie appuntamento a domani grazie 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 grazie